penso proprio che questa settimana avremo bisogno del lancio della moneta bitcoin che non lanciamo da un po' di tempo perché è una settimana delicatissima in quanto il mercato deve andare teoricamente a fare un nuovo minimo e in effetti proprio già nella giornata di oggi lunedì 11 di settembre ci sta già provando un nuovo minimo relativo a questo periodo ma 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 come tutte le cose che hanno una doppia faccia una doppia medaglia questo minimo teoricamente potrebbe non essere tanto negativo cioè non essere nel senso negativo magari poi si profonda però non essere negativo il risultato di questo minimo cioè il fatto che da qui poi possa iniziare un nuovo ciclo trimestrale siamo dopo la decade di settembre ogni minimo è buono oggi guardiamo un po' tutte queste cose e cerchiamo di capire se effettivamente siamo gli sgonfini di questa fase ed una inversione eventuale di bitcoin potrebbe essere utilizzata per qualche trade long che potrebbe dare un certo livello e grado di soddisfazione ma questo ce lo dice ovviamente il lancio della mia moneta che si dice di no bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi cerchiamo di essere nuovamente operativi dopo la pausa estiva bella lunghetta ma anche abbastanza poco intensa da un punto di vista di mercato a parte questi swipe che in realtà non hanno dato alcun tipo di risultato in questi ultimi mesi quindi l'ultimo mese in pratica è stato una piattume totale con queste impennate manipolatorie diciamo di bitcoin allora prima di fare tutta la questione ciclica che è importantissima già ve lo dico proprio in questo video importantissima ci prepara a quello che sarà questa settimana o almeno vi dico la mia da questo punto di vista perché potrebbe esserci qualche operazione in cina da fare proprio questa settimana andiamo poi a guardare anche il grafico di nasdaq che si avvicina a una possibile fase di chiusura del ciclo annuale perciò va monitorato ethereum che come sempre va assolutamente cercato ma che è più debole di bitcoin già da un po' di tempo ve lo avevo accennato andiamo a dare anche uno sguardo a quello che è il rapporto ethereum btc che dovremmo guardare insomma adeguatamente per anche i prossimi per capire anche ragazzi se effettivamente quella che può essere un alt season nei prossimi mesi dopo secondo me ottobre novembre potrebbe innescarsi andiamola poi a vedere ma prima di tutto andiamo a capire quali sono i dati macro di questa settimana e ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto allora andiamo ovviamente ragazzi se non mi lasciate mi piace chiudo qui anzi chiudo mi piace mi piace mi piace mi piace che mi costa niente basta basta vabbè allora scherzi a parte allora investing ci dà il calendario economico che questa settimana però è leggerino e soprattutto tutto focalizzato sul tasso di inflazione degli stati uniti che uscirà nella giornata di mercoledì non abbiamo assolutamente un tubo come si dice oggi e domani quindi il mercato può fare un po quello che vuole ma avete visto come i dati macro come vi dicevo non hanno più avuto impatto inconsistente nei mesi scorsi perché ormai i giochi sono fatti e sostanzialmente il mercato quello che sta avvenendo già se lo aspettava ora qualche dato importante c'è assolutamente va visto il tasso di inflazione che teoricamente a livello annuale su per quanto riguarda gli stati uniti è atteso ancora in rialzo dopo già il precedente che aveva avuto comunque un tasso di rialzo anche questo è diciamo previsto in fase rialzista vi faccio vedere infatti il grafico con vedete la super discesona del tasso di infrazione degli stati uniti ma poi il rimbalzino del mese di agosto rimbalzino che da previsto 3 dal 3 per cento previsto 3 1 era salito al 3 e 3 e poi anche eventualmente questo attuale che vedete a un certo punto potrebbe innescarsi un rialzo ulteriore quindi in pratica è come se ci fosse una specie di rimbalzino da un trend per poi fare la fase ribaltista probabilmente finale quindi tasso di infrazione che ci accompagna ancora questa informazione nelle prossime settimane nei prossimi mesi probabilmente fino al primo trimestre del 2024 non esiste alcuna possibilità secondo me che la banca centrale americana e neanche la banca centrale europea abbassino i tassi di interesse prima di maggio giugno del 2024 bisognerà vedere gli impatti sul l'impatto sul tasso di recessione che dovrebbe verificarsi iniziare a vedersi da verso fine anno insomma ragazzi quindi un Natale un po' scarsetto poi per quanto riguarda invece giovedì tutto dedicato alla banca centrale europea con il tasso decisione sui tassi della banca centrale europea che praticamente prosegue con il suo rialzo ma sostanzialmente in questo caso fa la fase di pausa come ha fatto la Federal Reserve quindi in pratica un copia e incolla della politica monetaria americana già effettuata tassi di soccupazione degli Stati Uniti che continuano a essere richieste di sussidio che continuano a essere bassini anche se abbiamo visto un leggero movimento sul tasso di soccupazione negli ultimi dati quindi focalizziamoci sostanzialmente due e mezza di mercoledì 13 sul dato del tasso di infrazione se dovesse essere più alto del previsto secondo me ragazzi funziona maluccio e provare può essere insomma che uno swipe poi ribassista ci sta tra le altre cose questo swipe noi lo stiamo già aspettando perché adesso andiamo e passiamo a quello che è la questione dell'analisi ciclica iniziando da Bitcoin sostanzialmente per poi procedere con Ethereum o Nasdaq 100 e capire anche un grafico che voglio mostrarvi alla fine del video che è il grafico del future di Bitcoin che in questo contesto negli ultimi mesi è più preciso del Bitcoin spot segno che questa fase di stand by per quanto riguarda la parte emotiva del settore delle cripto sta indirizzando un po' gli scambi verso quelli che sono strumenti professionali come il future che richiamano un po' di più l'andamento del mercato rispetto a quello standard, lo spot che è aperto sabato e domenica ma che in pratica non oscilla oppure fa solo up and down in maniera erratica vi ricordate i bei tempi quando la domenica buttavamo su quegli apponi giganteschi per mandare in gap up il future di Bitcoin la mattina ecco sono spariti quei momenti, non ci sono più che fine hanno fatto? Probabilmente le balene delle cripto sono in fase di stand by i retail non ci capiscono una mazza anche in questo caso perché sono sballottati dai ribassoni qualcuno si è tenuto le cripto lo scorso anno senza vendere quando sono andate contro trend e come sempre accade ragazzi, questo ogni bull run e ogni bear market accade questo errore classico di chi si affaccia che poi si giustifica a trarsi i bias cognitivi che ognuno di noi ha andando a prendere informazioni farlocche insomma o invenzioni varie ma non si sta mai contro trend soprattutto i mercati estremamente pericolosi come le cripto diverso discorso ovviamente per Bitcoin allora per quanto riguarda la questione della ciclicità di Bitcoin ma in questa struttura che ormai ha innescato palesemente una indicazione chiara che la fase attuale sia un mensile probabilmente indicativo di un mensile ribassista che dovrebbe andare a concludersi sostanzialmente fra un po' di tempo e concludere anche il ciclo trimestrale sul ciclo trimestrale un po' di dubbi li ho perché potrebbe non esserci diciamo il ciclo trimestrale così come è evidenziato cioè una struttura ciclica ragazzi che inizia da un punto prosegue con una fase up e poi una down che dura sostanzialmente 90 giorni di mercato aperto perché un trimestrale di mercato aperto sono 90 giorni perché lo spot ha i sabbati e le domeniche che ovviamente vanno aggiunti se invece guardiamo il future sono di meno però sostanzialmente Bitcoin nei due precedenti nelle due precedenti strutture cicliche ha fatto dei trimestrali da 109 e da 100 e da 97 questo qui io ve l'ho posizionato identico al precedente è difficile che sarà identico diciamo se lo fa è una casualità è possibile che l'abbia chiuso intorno a questa zona di agosto anche guardando diciamo la fase di minimo potrebbe farlo nella giornata di oggi 88-90 sì perché siamo agli sgoccioli quindi ogni minimo è buono i minimi io in questo caso li considererei sostanzialmente guardando la close del mercato e poi anche le shadow shadow che però bisogna vedere rispetto all'exchange perché Bitstamp un po' più pulitino Binance un po' strano ha delle quotazioni un po' strane e Bitfinex un po' più volatile quindi io utilizzo questi grafici sostanzialmente forse in un contesto di barra di congestione come quello che abbiamo visto andare a utilizzare forse le shadow non è produttivo comunque se il mercato fa uno shadow finale ribassista al di sotto di questi minimi di 25.300 raccorda un po' tutti gli exchange e insomma il gioco è fatto quindi ci elimina il dubbio però sostanzialmente io mi aspetto che proprio intorno al 15 mercoledì 13 e venerdì 15 in questa zona si vada a concludere tutto questo movimento un movimento che essenzialmente ci ha dato anche non poche difficoltà di gestione perché per esempio qui abbiamo dei mensili che sono stati un po' diversi dai soliti e tra le altre cose non si è capito se l'ultimo mensile è proprio questo che sta, oh mio dio ho usato il data, eccolo qui, il prezzo, il range prezzo potrebbe essere creato così cioè con una struttura che richiami un po' quello che è avvenuto tendenzialmente in queste fasi quindi un mensile corto iniziale molto forte uno lungo centrale e poi uno corto finale sono sostanzialmente delle strutture che sembrano essere improntate così poi magari qualcuno può dire qui il mensile è stato chiuso a 26 e qui stiamo facendo quello un po' più lunghetto non cambia niente perché tanto alla fine a livello operativo che è quello che a noi interessa sostanzialmente la frittata è la stessa cioè dobbiamo andare a chiudere il ciclo trimestrale e mensile di Bitcoin da lì la possibilità che vi dicevo all'inizio del video di poter agire in questa fase, in questa zona qui non in buy the dip, ve lo ripeto non in buy the dip, ve lo ripeto non in buy the dip ma aspettando un'inversione perché? perché se questi scenari, queste analisi non sono corretti e non abbiamo visto bene il trend e la struttura ciclica si modifica e noi lo scopriremo solo dopo perché qualsiasi analisi andiamo a fare qualsiasi scenario andiamo a idealizzare è comunque una previsione aleatoria basata su probabilità quindi noi dobbiamo lasciare spazio al dubbio e dare al mercato la possibilità di darci un minimo di indicazione prima di andare a fare dei buy anche se so che qualcuno di voi già farà il buy the dip al 100% perché fate sempre la stessa cosa lo faccio pure io per restare con voi con 50 dollari però lo faccio allora detto questo ragazzi cosa succede qui? in questa fase la possibilità che il mercato vada a innescare un nuovo trend che porti il mercato magari da A a B che magari è un trend solo di rimbalzo che non può avere possibilità di fare una cosa del genere però questo trendino a livello long ce lo dà il mercato ragazzi allora se ce lo dà e ci dà questa possibilità magari un 7, 10, 15% di up lo va a sparare a quel punto perché no soprattutto se siete dei trader formati che vi siete istruiti avete letto il libro e fatti i corsi potete anche utilizzare un minimo di leva in questo contesto c'è una leva U2, 4 i super speculatori che ovviamente sanno il fatto loro con trend stop, stop loss e tutto quello che c'è le manprine varie che vi faccio la testa tanta e non do consigli finanziari perché? perché in un contesto del genere essendo che il mercato difficilmente possa andare a sparare cifre di insomma magari come si dice volatilità iper elevate al rialzo allora magari la possibilità di avere un minimo di levetta che ci porta magari un 10% a un 20, 30% ci sta quel trend lì è un trend interessante anche perché va cavalcato perché nulla è cambiato da un punto di vista di medio-lungo periodo dall'inizio del ciclo annuale cioè tendenzialmente ancora ancora siamo in un trend che è teoricamente laterale non è ribassista se invece andiamo a sporare questo minimo che è la zona dei 24.500 cosa possibile in uno sciacquone ragazzi andiamo a configurare un trimestrale ribassista che probabilmente indicherebbe che il prossimo non ha modo di fare insomma grandi app ma a noi interessa poco perché interessa comunque cavalcare l'app e poi successivamente qualora il mercato andasse a invertire prendiamo il take profit della posizione chiudiamo le posizioni o addirittura qualcuno di voi piacerà fare short selling non lo faccio bitcoin ma lo faccio a gogo su altcoin che tra le altre cose in questo contesto usando o un trend system che però è molto bilanciato diciamo non fai per speculazione ed è interessante questa cosa perché le altcoin e i short sono state dei banco ma in questi ultimi anni vabbè detto quello in pratica a noi poi interessa fare solo l'appino quindi il trend che potrebbe verificarsi dall'inizio di questo nuovo trimestrale che magari sarà debole e quindi ci darà un segnale negativo magari sarà fortissimo e noi staremo sul trend il più possibile per cavalcare un'eventuale onda quindi pronti da mercoledì insomma in questa settimana ogni minimo è buono io ho già un'idea generale di quelli che sono dei livelli che possiamo andare a raggiungere e lo pubblico l'ho pubblicato anche in academy poco fa quello che è il i livelli del nostro a strategia settimanale e tenterò io stesso con le mie persone di trading di fare questo tipo di operatività che tra le altre cose potremmo vedere insieme perché mercoledì ragazzi andiamo in live ho deciso di andare in live tutti quanti insieme e visto che non ci vediamo da un po' e ci stiamo insieme ragazzi quindi mi raccomando non fate scappare questa cosa pubblico il link della live sul mio canale telegram che vi lascio in descrizione gratuitissimo come sempre va bene allora nasdaq velocemente la struttura secondo me di nasdaq è così creata cioè sta facendo un nuovo trimestrale da questa zona di minimo di agosto è un nuovo trimestrale che ancora non dà indicazioni importanti cioè è al punto di non ritorno così come si suol dire se da qui inverte e inizia a scendere cambiano le carte in tavolo perché qui fa un figurati di inversione quindi probabilmente potrebbe disegnare un trimestrale ribassista credo che il volano sarà proprio la questione legata al tasso di infrazione di mercoledì se invece supera nuovamente i massimi allora questa fase ribassista è stata riassorbita e a vantaggio di un nuovo trend che a quel punto può anche continuare nei prossimi mesi teoricamente dal punto di vista di calcolo di probabilità essendo la fase ciclica di nasdaq nella fase negativa dovrebbe fare una correzione non fare un nuovo massimo o meglio se anche lo fa dovrebbe essere un massimino un po' più alto per poi andare a correggere così quindi le ipotesi più probabili sono questa qui una specie di doppio massimo è la fase ribassista quindi una fase diciamo di correzione così l'ipotesi che fa un massimo qui e poi va in pratica a correggere è meno probabile quindi direi che gli do un 20-30% di probabilità alla parte di azista le altre due sono simili identiche quindi possiamo dargli in sostanza un 35% a entrambe probabilità quindi insieme fanno un 70% che non si va a diciamo salire così tanto questo potrebbe impattare anche per i prossimi periodi su bitcoin però non c'è un legame negli ultimi mesi tra bitcoin e nasdaq così evidente anzi è stato abbastanza scorrelato da nasdaq bitcoin stesso 25 ottobre la fase attesa fine ottobre di chiusura del ciclo annuale di nasdaq teoricamente se fanno cose del genere siamo a cavallo perché dopo il ciclo annuale inizia un altro ragazzi e quindi anche sui mercati old si può fare buy e in questo caso è concettualmente anche diciamo più statistico quindi un dato migliorativo poi andiamo a guardare il grafico di eth eth il trimestrale lo ha già virato al ribasso a differenza di bitcoin che non ha virato al ribasso il trimestrale questo significa che la debolezza di ethereum rispetto a bitcoin è notevole e c'è in maniera evidente già da un po' di tempo tanto è vero ragazzi che io più volte vi ho anche fatto vedere quello che era il grafico di cui oggi non riesco a parlare perché veramente siamo fuori timing il grafico del rapporto tra bitcoin ethereum a livello di di spread quindi eth contro bitcoin e in pratica da luglio del 2022 da luglio del 2022 è sempre più conveniente avere bitcoin rispetto a ethereum perché c'è un trend seppur non pronunciato laterale ma comunque ribassista quindi non ha senso ottenere ethereum rispetto a bitcoin con un trend peggiorativo di eth stesso tra le altre cose con un meno 30% per cui anche la questione dello staking eventuale se qualcuno di voi dice si ma eth li metto in staking al 4% non sta assolutamente in piedi perché poi ha perso il 30% rispetto a bitcoin quindi molto di meglio avere bitcoin in questa fase tra le altre cose essendo un ciclo un maxiciclo in chiusura quello di eth io ancora aspetto una fase di minimo più pronunciata quindi uno scivolone in sostanza di ethereum rispetto a bitcoin per andare a chiudere un po' il giochino e poi da lì invece mi interessa fare altre cose c'erano due targhettini il tg1 e il tg2 rai 1 rai 2 come mi sembra di ricordare comunque il tg2 il target 2 è intorno ai 1450 possibilissimo se perde questo supporto il supporto del target 1 potrebbe innescare il fase la fase diciamo a piombo di caduta libera di ethereum verso quest'altro tipo di target altrimenti deve prima chiudere questa struttura per poi darci un'indicazione effettivamente di chiusura del ciclo trimestrale e eventualmente poi ripresa di una nuova struttura ciclica anche qui su eth ragazzi ci siamo ci siamo teoricamente dovrebbe chiudere questo trimestrale in questa settimana se poi a lunga ne prendiamo atto diciamo coscienza come si suol dire però teoricamente questa è una settimana che potrebbe essere un po' pericolossetta al ribasso ma soprattutto interessante andare a valutare quelli che sono poi eventuali minimi per attendere vi ripeto una ripresa un'inversione di trend sul time frame inferiore come spiego nel mio corso io nel corso ragazzi ho indicato come si vanno a tradare questi tipi di operatività cioè sostanzialmente bisogna anche sguicciare con due time frame avere un time frame più veloce per attendere una volta che è avvenuta la conferma di uno scenario se avviene attendere poi il time frame inferiore per avere una strategia di ingresso su quel time frame essere più veloci più reattivi al mercato perché comunque un minimo di rischio lo dobbiamo sempre assumere però quello è un rischio calcolato bilanciato statisticamente validato e quindi è sempre vincente nel lungo periodo perché è statistico questo è concettualmente è un po' complesso non lo posso riassumere va bene detto questo fatemi sapere invece anche voi che cosa vi aspettate questa settimana si fa il minimo e si riparte secondo voi con un nuovo ciclo si o no oppure siamo destinati a questo limbo lento cattivo noiosissimo con il meme bitcoin fai qualcosa che poi fa cose negative meglio che non glielo diciamo per un po' per un altro po' di tempo cosa ne pensate nei commenti noi ci vediamo mercoledì invece nella live non mancate nella live ragazzi il link lo pubblico sul canale telegram in descrizione ciao